Il presidente della Fiera di Levante di Bari, Ugo Patroni Griffi, e l'avvocato Sara Armella, presidente della Fiera di Genova, nel pomeriggio della prima giornata della 76esima Fiera di Levante, hanno firmato due protocolli di collaborazione che dovranno massimizzare le risorse migliori di due territori lontani geograficamente, ma molto somiglianti economicamente. Le avete chiamate protocolli, in realtà è un gemellaggio per dirla in maniera popolare? Beh sì, è un gemellaggio, solamente che si chiamano così tecnicamente perché sono degli accordi di massima che poi vanno sviluppati nel dettaglio. Noi abbiamo creato l'interagliatura, il quadro all'interno del quale poi scriveremo le regole. Presenti il direttore generale Leo Volpicella, il vicepresidente De Santis e il presidente della Camera di Commercio di Bari, Ambruosi e l'amministratore delegato della Fiera di Genova, Antonio Bruzzone. Abbiamo due comunità molto simili, seppure molto lontane. Abbiamo due comunità molto simili, abbiamo anche due fiere molto simili, che stanno veramente cambiando passo e si stanno mettendo sempre più al servizio delle aziende, ripensando completamente il proprio ruolo. Il mondo è cambiato, è giusto creare le opportunità per rispondere meglio alle esigenze delle imprese, creare progetti molto, molto concreti e lavorare proprio su un terreno operativo e utile. Due squadre di tecnici, una pugliese e l'altra Ligure, da subito si metteranno in movimento per ampliare le reti distributive e trovare nuovi mercati a prodotti eccellenti come fiori, olio e nautica. Abbiamo scoperto che è un turista non occasionale della Liguria, cioè va sempre in Liguria? Va sempre in Liguria no, però vado spesso in Liguria, è una regione che mi piace moltissimo, quindi sono innamorato della Liguria e delle sue particolarità. Avendo io lavorato come emigrante per quattro anni in Svizzera, la Liguria era lo sfogo marino, marittimo, per eccellenza. Andrete a Shanghai? Beh, certamente ci sono le condizioni per fare bene, il protocollo prevede già una prima collaborazione per portare aziende pugliesi, e qui avete tante eccellenze, non solo nel distretto del food, in questa nuova prospettiva espositiva. Grazie per la visione!